Si è svolto venerdì 31 gennaio presso l'auditorium comunale Tebaldini il primo di una serie di appuntamenti promossi dalla nostra testata. Durante l'incontro è stato presentato il volume Symbolum, percorsi e approfondimenti sul catechismo della Chiesa Cattolica, ad opera di Maria Rosa Poggio ed edito dalla libreria editrice vaticana. Si tratta della prima presentazione ufficiale dopo quella avvenuta nei locali di Radio Vaticana. L'incontro si è aperto con un intervento del nostro collaboratore, nonché curatore dell'evento, Nicola Rosetti, che ha spiegato al pubblico come il nostro giornale, d'ora in poi, non si limiterà a fare informazione, ma organizzerà eventi culturali e promuoverà a fine maggio, nella nostra diocesi, il primo meeting dei giornali cattolici online. Ha preso poi la parola la dottoressa Barbara Falgiani del movimento Fides Vita, che ha illustrato come l'arte abbia molto rilievo nel cammino religioso del quale fa parte. La Falgiani ha spiegato come, in due particolari momenti, Fides Vita faccia ricorso all'arte per giungere a Gesù, attraverso la promozione di mostre oppure tramite la realizzazione di un volantino in occasione delle più importanti festività cristiane del Natale e della Pasqua. La professoressa Maria Rosa Poggio ha poi spiegato com'è nata l'idea del volume Symbolum. L'autrice ha raccontato come un giorno abbia ricevuto la telefonata del direttore della libreria editrice vaticana, Don Giuseppe Costa, che le chiedeva di realizzare un percorso di approfondimento sul catechismo della Chiesa Cattolica, soprattutto attraverso l'uso di immagini artistiche che fanno parte dei musei vaticani. La professoressa Poggio si avvalsa di una presentazione in PowerPoint per illustrare i principali contenuti del suo volume, che vuole introdurre le persone nel mondo del catechismo della Chiesa Cattolica. Un testo molto denso che necessita di una guida del genere per poter essere apprezzato fino in fondo. Symbolum si rivolge sia agli adolescenti che agli adulti. Usa volutamente un linguaggio semplice, ma non per questo banale, in grado di introdurre il lettore alle più alte verità della fede cristiana. Verità che spesso sono misconosciute dal grande pubblico, nonostante l'Italia sia un paese di tradizione cattolica. Per l'autrice, catechizzare non vuol dire solo trasmettere la fede, ma anche fare cultura, poiché gran parte del patrimonio artistico nazionale si ispira alla religione, ignorando la quale è impossibile apprezzare appieno opera ad esempio di Michelangelo o di Caravaggio. Al termine della presentazione del libro sono stati premiati i vincitori del concorso Fotografa il tuo presepe, organizzato sempre dal nostro giornale. La parrocchia di San Pio V di Grottamare ha ritirato il premio per la sezione Il presepe parrocchiale, mentre Stefano quello per la sezione Il presepe di casa. I premi sono stati consegnati dal caporedattore Simone Incicco. È stato un evento ottimamente riuscito e reso possibile anche grazie alla collaborazione di Mimmo Minuto della Libreria La Bibliofila, del Comune di San Benedetto del Tronto che ha patrocinato l'iniziativa, dell'Ufficio Diocesano per la Cultura e di tutta la stampa locale che ha contribuito a diffondere l'evento. Cogliamo l'occasione infine per invitarvi al prossimo incontro, che si terrà venerdì 7 febbraio alle ore 21.15, sempre presso l'auditorium comunale Tebaldini in San Benedetto del Tronto. Offriranno la loro testimonianza i coniugi Gasparre, responsabili regionali dell'associazione La Quercia Millenaria.